la macchina dei miei accompagnatori in questa missione speciale siamo qui oggi con un nuovo video oggi ragazzi si torna a castelvolturno dopo un anno non sono solo perché squadra che vince non si cambia l'altra volta abbiamo vinto in quel di castelvolturno cristiano francesco e allora ragazzi prima di cominciare vi chiedo di lasciare un bel like di supporto una bella iscrizione tanti bei commenti oggi in realtà vengo qui con un obiettivo quello di far pace con elmas anche se non ho litigato ma come avete ben visto sui social in questi giorni mi ha bloccato dopo che gli ho mandato un messaggio di sprono sul suo instagram e niente voglio mi ha bloccato quindi io cercherò di farmi sbloccare non sarà facile anche perché vai non è che siamo solo tutti e quattro la fuori in ogni caso parlerò cercherò di parlare anche con gli altri giocatori e noi ci vediamo tra poco speriamo bene arrivati questa strada beh mi fa ricordare di quando ho parlato col capitano lorenzo insigne a merese c'è gente invece c'è qualcuno però è prestissimo matthew ma te sei non ho pulito a favorito voglio se ne hai giù da posso grazie a te su chi su chi su chi su chi su chi grazie per avermi dedicato il gol domenica ti amo cosa ho capito frate dedicami un gol domenica lo voglio contro la roma però bello forte la facoltà io comunque piccolo aggiornamento non si è fermato né politano e nè mario rui non lo so l'unico che si è fermato è stato lozano che farà gol domenica con la roma te lo dedicherà poi ti giuro vediamo chi è oh no dombele no ma quando si frisca ma che drip che stile voglio nemmeno dombele si è fermato perché vanno i pressi tu quando io stavo ottenendo la fa vabbè aspettiamo i prossimi o meretto no meretto ma che cavolo dombele no si è liscio pure se no ma vanno tutti quanti presti ma no 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 frasi vanno tutti quanti per te qua ma io non so niente tutto quanto da fa stamattina c'è stavano tutti quanti qua per para sta un macello di gente per quara se n'è andato l'unico obiettivo resta ancora in vita è il massimo bloccami su instagram giovane di lorenzo capitano mia bella ma in cui a te non fanno stile chiusa a casa non possa fare niente a volo dai veloce dai veloce dai veloce vai 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 ma che ti fa la macchina vuoi la mano il massimo appena nato via perfetto fai un missione fallita e il massimo è andato adrippi sono andato quindi questo è fallita nel video eccolo vittor oh sì vabbè vittor vittor magnate ma vittor magnate vittor magnate oggi comunque si mette il migliore guardate là dove si è fermato pure in curva non se ne f*** proprio mamma mia a lei puntiamo molto su di te eh no no ma io punto io punto io punto quando 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 sei fortissimo veramente sei fortissimo grande gioia di nello stesso nome ci siamo uguali juan uguale tu sei juan e sinubos dai raspa regale una maglia la porta dell'ajac si sta tremando ancora fai paura già come li stai facendo impazzire ma come mai non so spattavano proprio eh non so spattavano grande ora come no watch i triblati non funziona non se ne f*** tanto non devi accendere oh ciolito eh oh che io mi chatti impaurito è successo niente cucciolo ma si bello stai a buffarne con la tutto quanto eh ci sono solo spettato tu qualche anno fa mi hai fatto piangere per quella tripletta ma ora mi devi far piangere te lo devi vedere tu gioia vai ciolito ciolito stai buffando con la vai sempre ragazzi a simeone gli ho detto quello che gli dovevo dire con la tripletta ha fatto male ma no ma ti fa piangere gioia guarda ma quest'anno non ci ho detto niente ci pre... no ma dico ci state un poco pensando ci state un po' pensando e vai sempre vai ciao Sassi ti posso fare un complimento sei bellissimo oi sei proprio un bel lomba detto da un uomo sei proprio più fisca e raro ragazzi comunque c'è una fortunata che stamattina qua a parte che sta piangendo sei emozionata perché ha avuto la prima maglia quella di Osimena firmata e muoio la chiesa cura al ciolito ma rimane dalla porta ma questo è tuo? ah ti ha pure di f*****o quasi quasi vabbè comunque è mio amipote quindi siamo là siamo là il ciolito della porta che ha detto? speriamo di sì ma siamo emozionati mi chiede? grande ciao lobo ah no ma com'è? poi ci vediamo uno per... ma chi è? ma sei in furgola ma eh? osti Leo Leo mamma mia Leo ma come sei bella? ma quella si raccomandava ti fai f*****o Leo ti ho chiamato Randy Orton sei uguale? e fai paura vado Diego ti stavamo aspettando eh torna più forte di prima sei a posto Diego? bene bene sulla testa ti mi aspettano Diego fanno ricciata un po' che lo ho botto che non ce la fai più no Franco no Franco te ne che fai? no ha fatto il gesto a giaccia avanti il video finisce qua spero che vi sia piaciuto la mia impresa con Hermas non è riuscita perché avete visto dal video comunque disfuggita pure la macchina si è andata subito appena vista i tifosi come tanti altri e non solo lui ci saranno altre occasioni altre occasioni per fare questa cosa quindi spero vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace un bel commento una bella iscrizione e sempre forzata ve lo aiuto alla prossima ciao